Pick up e barca al seguito. Max Mughini inizia il suo tour europeo dalla Spagna. Si pesca al bus nei laghi più famosi e storici e in quelli più isolati e selvaggi. Il bus di Casper. Yes! Il primo bus di Orignano. Grazie per il momento. Bus Zone on the Road. Dal 6 novembre ogni giovedì alle 21. Su Pesca, canale 236. Grazie a tutti.